Tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri di Natale questa mattina presso la prefettura di Salerno. Per l'occasione il prefetto Francesco Russo, in carica da luglio, ha tracciato un bilancio dei suoi primi mesi di attività. Venire in un nuovo posto, cominciare a conoscere questo posto, una provincia così importante come Salerno, evidentemente per me è pieno di stimoli, per cui io lo vedo molto positivamente dal mio punto di vista. Mi pongo il problema di capire evidentemente insieme alla Stam, insieme a tutte le istituzioni, quali sono i problemi della città e della provincia. Lo stiamo facendo, chiaramente io sto ancora studiando per capire bene tutti i fenomeni. Ho già fatto insieme ai miei collaboratori vari passaggi, abbiamo affrontato alcune questioni. Mi piace dire soprattutto che ho conosciuto buona parte dei sindaci di questa provincia, in sostanza li ho conosciuti tutti, ma li ho voluti vedere in comitato per l'ordine di sicurezza pubblica anche quelli della parte meridionale della provincia, quindi tanti dei comuni piccoli, con i quali abbiamo guardato insieme anche le problematiche che sono nei comuni piccoli. Sono problematiche in parte diverse, in parte analoghe, perché c'è sempre la percezione di sicurezza, che è un problema sempre all'ordine del giorno. C'è nello stesso tempo apprezzamento per l'opera delle forze di polizia, e questo è uno degli aspetti migliori che io nel bilancio di questa prima parte, di questo fine anno, metto ed è qualcosa che mi rassicura, perché è la base importante per lavorare meglio anche per il futuro nella nostra provincia, per cui c'è un impegno a 360 gradi, sicurezza stradale, sicurezza, evidentemente in generale sicurezza interdittiva antimafia, affrontiamo un po' con le questioni da tutti i punti di vista. E' chiaro, cerchiamo di fare il massimo, e il massimo si può raggiungere, questa è una consapevolezza piena acquisita in questi mesi, con la collaborazione costante tra le istituzioni, trovando un linguaggio comune e sviluppandolo insieme. In questo modo chiaramente si possono dare risposte ai migliori cittadini.